Oggi parleremo del perdono e questo potere che c'è dietro al perdono e io scrivevo ieri prima di andare a riposare cosa dobbiamo sapere sul perdono numero uno che sono state le ultime parole di Cristo Gesù sulla croce guardate Luca capitolo 23 versetto 34 Gesù diceva padre perdona loro perché non sanno quel che fanno questo è stato l'ultimo messaggio di Cristo Gesù e per conseguenza il messaggio più importante del regno verso la terra dietro a questa dichiarazione le pietre si spaccarono il velo si è aperto il tempio si è spaccato in due e il sepolcro di gente morta di santi morti sono risorti sono aperti e sono risorte queste persone lo racconta la scrittura come una testimonianza quindi c'è una grande potenza e una grande autorità nel perdonare nel perdono però come stavamo vedendo è noto in questo tempo che stiamo vivendo una delle delle epidemie più grande nel mondo riguardante alla mancanza di perdono oggi il problema di tutto questo fondamentalmente è che questa mancanza di perdono si è introdotta anche dentro alle nostre chiese la dove doveva restare diciamo una una porta aperta la dove doveva restare e dovevamo essere noi la porta di benedizione per tante altre persone oggi si combatte tanto 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 con la mancanza di perdono all'interno delle nostre chiese Matteo 6 14 15 dice perché se voi perdonate gli uomini le loro colpe il padre vostro vi perdonerà anche a voi e noi dobbiamo sapere che padre significa pater cioè significa orizzonte significa identità e in questo caso il regno dei cieli Cristo Gesù lascia in chiaro che il cuore del padre è un cuore che perdona e non è per metterlo in discussione cari fratelli perciò non è non si può analizzare il perdono come se fosse una parola in più perché stiamo parlando di una delle parole più potenti che ha il regno dei cieli che aprono le porte impressionanti e quindi il diavolo che farà verrà a rubare queste queste porte queste chiavi lui vuole prendersi le chiavi del regno Cristo Gesù gli dice a Pietro io ti darò a te le chiavi del regno una delle chiavi importantissime del regno perché il regno esiste perché si può accedere a questo regno una di queste chiavi importantissime è il perdono e io voglio proclamare insieme a noi che il nostro cuore entra in una stagione di perdono nel nome di Cristo Gesù tutti i nostri fratelli che stanno guardando oggi qui noi decretiamo signore sulla vita loro che avranno autorità per poter prendersi questa chiave signore che è una chiave importantissima se non la chiave fondamento del regno dei cieli nel nome di Cristo Gesù amè dobbiamo sapere che senza il perdono non possiamo ottenere la grazia e il favore di Dio padre perdona loro perché dice così come noi perdoniamo a loro le colpe perdona le nostre colpe non possiamo ottenere la grazia il favore di Dio il perdono di Dio senza rilasciare il perdono come posso pastore perdonare c'è una risposta immediata semplice non meditando più nel rancore che c'è contro questa persona non facendo diventare questa situazione il nostro modello di pensiero il nostro la nostra priorità il nostro continuo il nostro pensiero e la nostra quotidianità è così il favore di Dio è reale attraverso la storia però poche persone si sono trovati a questo favore e oggi ancora oggi pochi raggiungono sull'umanità cioè questo questo dono che Dio ci ha dato di avere il suo favore la sua benedizione anche se questo è stato un regalo per tutta l'umanità guardate che cosa dice qua perdona a loro perché non sanno quel che fanno che cosa è quel che fanno quel che fanno ma che cosa è quel che fanno scrivevo io ieri Giacomo capitolo 4 17 chiunque sa fare il bene e non lo fa commette peccato che dobbiamo sapere che quando noi sappiamo quello che facciamo siamo in diciamo in una posizione di non poter ricevere questo perdono e per conseguenza la grazia il favore perché dice perdona a loro che non sanno quel che fanno però quella bibbia dice quel che sa che deve fare il bene e non lo fa commette un peccato e il perdono che è come il titolo diciamo di approvazione finale nella vita di un cristiano è come dire prima di laurearti tu devi passare questa prova prima di ottenere la chiave più importante del regno dei cieli tu devi passare questa prova la mancanza di perdono è una porta aperta al nemico che viene a distruggere la nostra vita spirituale fisica ed emozionale cosa significa non perdonare ad esempio castigare la persona con pensieri di rancore e di vendetta questo consuma il cuore fierito e lo riempie di amarezza e dobbiamo sapere che il nostro cuore non è stato creato per odiare ma per perdonare infatti in proverbio è scritto proteggi il tuo cuore più di ogni altra cosa perché da esso emana la vita il diavolo sa benissimo che per colpire la nostra famiglia per colpire il nostro intorno basta entrare nel cuore attraverso la mancanza di perdono perché la bibbia dice la vita e la morte sono nelle tue mani decidi la vita però quando noi decidiamo di non perdonare stiamo decidendo voi o no la morte e perché? perché il cuore ferito comincia ad emanare e a buzare comincia a contaminare come dice la bibbia che nessuna radice di amarezza sia in voi per non contaminare quindi il perdono è la chiave per molte risposte di molte situazioni per la guarigione per la felicità per la restaurazione del matrimonio per la restaurazione con i tuoi figli il perdono è la chiave a molte risposte di molte persone che sento che qui stanno aspettando che Dio operi della vostra verità e la chiave del perdono è la chiave della vostra guarigione la chiave di quel figlio che si è perso è la chiave della restaurazione del matrimonio è la chiave per la tua felicità molte persone si nascondono diciamo dietro al rancore con dei pensieri come che il signore sa no fratelli voi sapete che la responsabilità è nelle nostre mani insegnami dicono le persone a perdonare la bibbia è piena di insegnamenti se c'è qualcuno che lo può insegnare alla grande è Cristo Gesù però poca gente si vuole accostare alla scrittura nel tempo di lettura non per impararla e sentirmi compiaciuto di che l'ho letta e mi sono imparato un altro versetto se non per viverla e per chiedere allo Spirito Santo che ci possa rinnovare amè? allora cosa significa perdonare? cancellare il debito pendiente contro la persona pendiente si può dire così? il debito rimasto diciamo contro la persona in sospeso contro la persona e prendere una decisione di togliere i debiti con un atto volontario che non sia fondamentato sulle emozioni ma su una convinzione quanti diciamo? amè? il perdono però è un mandato del Signore cosa sappiamo del perdono? che è un mandato del Signore Matteo 6,12 dice rimettici i nostri debiti così come noi abbiamo rimesso i nostri debiti ai nostri debitori i debiti ai nostri debitori la mancanza di perdono è un'esca di Satana in Matteo 18,6-7 noi troviamo scritto ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare guai al mondo a causa degli scandali perché è necessario che avvengano degli scandali ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene la parola Gesù Cristo ha parlato della necessità di diciamo lasciar passare le offese la parola offesa è una parola greca che significa scandalon che significa trappola o esca questa parola è stata utilizzata nell'antichità per descrivere quella verga che utilizzavano i pastori flessibile che utilizzavano come una esca per poter cacciare degli animali in altre parole la persona che offende o che fierisce il nemico sta utilizzando questo come un'esca per intrappolarlo a sé a lui stesso è tanto importante alzarci ogni giorno rivedere il nostro cuore e vi dico una cosa fratelli voi sapete io sono argentino di famiglia argentina sono io cresciuto in una cultura dove abbiamo vissuto tanti risvegli tante visite dello spirito santo vi posso dire che è stato questo qualcosa con la quale la nazione si è confrontata fortemente per poter vivere quella visitazione dello spirito santo oggi da 13 anni siamo in italia io sono in italia noi è nata qui e vi posso dire fratelli che c'è tanta ipocrazia nel cuore ho visto a livello nazionale tanta gente che dice no no io non ho niente però il diavolo ha creato un'esca dentro al loro cuore perché perché non rilasciano il perdono non praticano il perdono mi ricordo molto bene quando sono arrivato qui avevo i capelli avevo tante cose quando sono arrivato qui e il signore mi parlò e mi dice proteggi il tuo cuore perché qui il dominatore e ci sono due dominatori numero uno l'ipocrazia diciamo intendo dire non perché la gente sia ipocrita sino perché nasconde la verità per non confrontarla e l'altro era lo spirito la radice di amarezza che si mette facilmente io provengo voi sapete una famiglia italiana e mia nonna edilocri mio nonno mio padre tutti sono nati qua emigrati in argentina sono nato là in argentina e posso dire di riconoscere la cultura italiana e sempre c'è stato nel il lamento il notoso il questo e non mi basta e questo però io provo provengo di una nazione dove veramente la crisi è crisi dove non ce n'era literalmente per mangiare dove non ce n'era literalmente per cambiare un vestito dove il lavoro non ce n'era e quel che io so che cosa significa e in italia ce ne sono tante possibilità di poter crescere però la gente utilizza il lamento come un modello di comunicazione perché dentro al cuore ci sono molte radici di amarezza e non hanno chiuso queste porte non si sono chiuse queste porte diciamo e con un'azione contraria per poterli adesso lo vedremo come posso chiudere io queste queste porte diciamo queste radici di amarezza dentro al mio cuore la conseguenza di non perdonare il signore non perdona le nostre offese alcune conseguenze diciamo vedremo a non perdonare numero uno dio non perdona le nostre offese in marco 11 25 al 26 e quando pregherai perdona e se hai qualcosa contro qualcun altro e vai e perdonalo affinché tuo padre che ti vede nel cielo possa perdonare a te anche le tue offese perché se voi se voi non perdonate neanche vostro padre che nel cielo vi perdonerà le vostre offese quindi che produce la mancanza di perdono radice amarezza ma nello stesso tempo chiude il cielo e non vengo ad essere io perdonato nella mia vita quindi è un esercizio continuo che però se non si viene somministrato della parola del signore in continuazione io vi posso dire che è difficilissimo perché nella nella natura proprio della della natura terri del territorio nazionale in modo particolare c'è questa fortezza lui ha assegnato un demore che semini dentro al cuore amarezza e quindi non c'è mai questo essere soddisfatti questa gioia questo vivere la vita con gioia sempre c'è un qualcosa sempre ci sono pensieri nascosti il nemico numero due che cosa qual è la conseguenza non perdonare il nemico prende vantaggio sulle nostre vite e la mancanza di perdono è una porta aperta al nemico che distrugge la nostra casa le nostre finanze la nostra salute e distrugge anche tutti quelli che noi amiamo in matteo 18 32 al 35 dice allora chiamando il loro signore e chiamo a questo signore gli dice servo malvagio tu io ti avevo perdonato il debito perché tu mi avevi pregato non dovevi anche tu avere misericordia del tuo conservo come io l'ho avuto di te allora il suo signore arrabbiato lo consegnò ai verdugo diciamo questi che si mettono il capuccio agli estruzzini sì finché pagasse tutto il loro debito così anche il padre celeste farà con voi se non perdonatevi tutto con tutto il cuore ai vostri fratelli le vostre offese e io dico signore voglio iniziare una settimana con un cuore nuovo quanti diciamo a me cioè lo stiamo parlando perché è un tema magari a tutti ci piace la gloria del nuovo tempo e quello che sta avvenendo però fratelli se dobbiamo preparare la nostra vita come la sposa amata del signore che deve preparare il suo cuore per ricevere il il signore dei signori allora questo è un argomento talmente importante di preparare i nostri cuori di sforzarci come sia sia senza dare sopravento ai nostri pensieri senza dare sopravento alla nostra anima ma confrontandola dicendo no 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 io appartengo alla guarigione io appartengo al perdono a me dio mi ha perdonato e mi ha rimesso i debiti io perdonerò io perdonerò è importantissimo per effettuare un perdono completo nel nostro cuore essere sinceri con noi stessi perché mi sono trovata con molte persone al quale abbiamo chiedere abbiamo ho parlato del perdono perché personalmente io il signore mi ha dato questa chiave a me per poter liberarmi per liberare la mia anima e tante problematiche che stavo vivendo che era tutta a radice di questa amarezza che erano che aveva nel mio cuore e io ho chiesto al signore come faccio a completare questo perdono perché io avevo preso la decisione ogni giorno andavo davanti a dio di io decido perdonare io perdono importante essere sinceri in che senso non non illuderti se no non convincerti che quella decisione che hai preso è perdonato perché tutto dipende dal cuore analizza il tuo cuore come diceva davide esamina il mio cuore signore e vedi se c'è qualche via iniqua e conducimi per la via eterna che questo sia la nostra preghiera sempre perché il perdono è qualcosa che non avviene in modo improvviso se no che è un processo perché il diavolo in tutti questi anni ha lavorato o ha dato spazio e sempre dico la nostra anima è come un bambino un bambino capriccioso che fino adesso gli abbiamo permesso di fare capricci gli abbiamo permesso di parlare quindi quando vengono pensieri di rabbia pensieri sopra l'offesa e ancora abbiamo questo sentimento di tristezza di rabbia vuol dire che ancora il perdono non è attuato nel nostro cuore e che il nostro cuore ancora è ferito quindi se questo non solo bisogna pregare ma bisogna iniziare a educare la nostra anima a non fare capricci perché mamma mica mi comprende perché voi sapete che quando i bambini fanno capricci noi diciamo no e perché sappiamo che quel no li sta proteggendo da un pericolo li sta proteggendo da qualcosa e lo stesso deve succedere con noi quindi se voi mi state chiedendo ok sì sì io capisco il perdono teoricamente lo conosco ma praticamente io voglio dirti che tu per effettuare questo perdono completo devi iniziare a educare la tua anima e dire no quindi quando vengono pensieri di rabbia quando vengono pensieri su di offesa di tristezza devi dire no anima e come dice il salmo anima mia spera spera nel signore e educare come educhiamo i nostri figli e li lasciamo piangere così lascia piangere la tua anima e non la alimentare più con questi pensieri dici no metti musica adora e dice signore liberami da questi pensieri io rinuncio a questi pensieri e comincia ad adorare a ringraziare dio sacrificio di ringraziamento perché sacrificio perché in quel momento è un sacrificio ringraziare dio in quella difficoltà perché chissà tu hai ragione chissà la mente ti porta a dire ma io ho tutta la ragione però anche gesù aveva ragione sulla croce e lui ha rinunciato alla sua ragione per dare salvezza all'umanità quindi se tu rinunci alla tua ragione troverai io ti darà la felicità che tu stai cercando qualcosa di importante qui è capire le conseguenze perché uno cura la macchina perché ci sono conseguenze ad esempio io ho fatto il cambio cinghia distribuzione anche se la macchina non presentava usura ti danno un consiglio e ti dicono entro tanti chilometri tu fai questo cambio perché non si sa può andare tutta la vita come può in un minuto distruggere il motore intero per chi non sa un cambio di questo elemento può costare 300 euro che sono soldi però se uno non cambia se uno non prende posizione su questo la riparazione completa al motore può costare oltre 3.000 quindi vedete quanto sia importante capire le conseguenze che ci possono essere nella nostra vita quando noi non ripariamo urgentemente qua la bibbia dice che dio non perdona le nostre offese una conseguenza numero 2 il nemico prende vantaggio nella nostra vita numero 3 le nostre prieghiere sono ostacolate secondo quello che dice prima giovanni capitolo 3 14 16 noi sappiamo che siamo passati dalla vita alla morte e chiamiamo perché amiamo ai fratelli quel che non ama il suo fratello rimane nella morte tutti coloro che a vorrecer che odiano suo fratello sono omicidi e sapete che nessun omicida ha la vita eterna o potrà rimanere in lui la vita eterna in questo abbiamo conosciuto il signore in che lui ha messo ha dato la sua vita per noi così anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i nostri fratelli voglio leggervi cosa significa la parola strozzino perché qui la bibbia dice chiaramente in matteo 18 che dio ci consegnerà gli strozzini dio un'altra conseguenza alla mancanza di perdono è che dio ci mette nelle mani degli strozzini la parola strozzino significa chi porta tormento tormentatore se può dire così tormentatore la mancanza di perdono è uno dei maggiori odori se vogliamo chiamare che attirano i demoni quando c'è mancanza di perdono quando c'è radice amarezza questo regno degli inferi lo attira fortemente sulla vita della persona loro utilizzano le offese che tu hai ricevuto che io ho ricevuto per ricordarci la in ogni momento in questo modo il il sentimento di amarezza cresce dentro al nostro cuore e non ci permette avvicinarci a dio e fluire nella sua benedizione questo comporta anche un tipo di tortura nella nostra vita o della vita della persona che non ha perdonato nell'idioma greco la parola come vi dicevo strozzino significa tormentare tormentare e ovviamente la bibbia dice chiaramente tormentare dai demoni quindi questo è importantissimo fratelli a volte quando qualcuno ci dice vai a farti il bacino intendo dire no come davo il bacino come davo l'esempio la macchina si va bene ho un po di tempo però se una persona ti dice non te lo fai e muori ok qua succede esattamente lo stesso quando noi non perdoniamo quando noi entriamo in questo tipo di dialogo diciamo con il regno dei cieli siamo consegnati a una mente che continuamente ci fa pensare al rancore e all'odio che proviamo per questa persona è come un veleno a gocce non te ne accorgi ma ti uccide perché ti uccide non ti uccide fisicamente o anche spiritualmente ma uccide il tuo presente il tuo futuro perché vivi nel passato vivi in quello che ti hanno fatto e quello che ti hanno fatto nel passato lo vivi come se fosse il tuo presente e quindi di conseguenza non ti rallegri del presente di quello che hai della tua famiglia perché stai ancora pensando al passato e quindi non ti proietti al futuro e quindi questo io penso che questo sia la morte più terribile i nostri debiti non vengono cancellati il nostro debito non è cancellato è impossibile credere che dio quando siamo feriti e può sorgere attraverso entrambi le fonti dio fluisce attraverso la fede o attraverso o non fluisce perché c'è un risentimento cioè una una un dolore nel cuore quindi dio non può fluire si ferma il fruire della presenza di dio queste devono essere dei baluardi nella nostra vita dire signore ho bisogno di cambiare la cinghia distribuzione urgente perché può rompere il motore di un momento all'altro la mia relazione con te la mia relazione adorazione e per conseguenza la benedizione la mia casa se io non vengo perdonato se io non vengo amato se io non vengo benedetto se il mio lavoro non viene messo la mano del signore sul mio lavoro come mi manda il signore a una nuova stagione e di questo con noi mi possiamo ministrare tantissimo perché noi continuamente stiamo rinunciando a rancori a situazioni perché vediamo la mano però dall'altro lato del signore la mano del signore si apre in abbondanza sulla nostra vita giustamente perché stiamo vedendo che il signore il nostro dio vuole benedire la nostra vita e sappiamo che ci sono conseguenze grosse come posso perdonare e dimenticare le offese numero uno prendi una decisione numero uno prendi una decisione di perdonare con tutto il tuo cuore numero due pentirti per servare rancore nel tuo cuore e creare un pensiero di giudizio il signore mi pento e ti chiedo perdono signore se io ho giudicato nella mia mente nel mio spirito questa persona io mi pento di questo signore io la lascio andare così come tu hai perdonato me io padre ti chiedo di perdonare anche loro nel nome di chiesto gesù e li perdono e mi sforzo e come diceva noemi sforzo c'è obbligo la la mente obbligo il mio spirito a perdonare amen sprimere il perdono verbalmente questo è un terzo punto questa è la parte più difficile sprimerlo verbalmente io perdono la famiglia x io perdono la persona x lo confesso con la mia bocca perché la bibbia dice chi confessare il suo peccato amen quindi anche la mancanza di perdono è una forma di peccato nella nostra vita dice in giacomo capitolo 5 16 confessatevi le vostre offese gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti la vostra preghiera la preghiera del giusto sia efficace nel nome di cristo gesù amen rinuncia a uno spirito di amarezza o di mancanza di perdono amen come posso sapere se ho perdonato come posso identificare se ho perdonato stiamo andando alla conclusione e sappiamo che abbiamo perdonato quando non ricordiamo più quello che ci hanno fatto già non ci quando pensiamo a quella situazione non c'è più dolore nella nostra vita cosa dobbiamo fare con coloro che non accettano il nostro perdono una volta tu hai espresso il tuo perdono o cioè tu hai chiesto perdono se la persona non vuole perdonare e riconoscere le sue mancanze non è un problema che appartiene a te perché tu hai fatto la tua parte dobbiamo cercare di allontanarci di quelle persone per cercare di non essere fieriti nuovamente io ti ho espresso il perdono io ti ho espresso il mio amore però dopo di che se vedo che questa persona non desidera ricevere questo perdono semplicemente mi devo allontanare per non rischiare di nuovamente cadere in questa trappola purtroppo è duro è difficile però il perdono deve essere reciproco e se dall'altra parte la persona ha il desiderio di perdonare ha il desiderio di edificare allora edifichiamo insieme cosa devo fare con coloro che mi offendono continuamente dobbiamo perdonare ad ogni persona ogni qualvolta sia necessario Gesù lo ha detto chiaramente quante volte perdonerò a colui che mi ha offeso in Matteo capitolo 18 versetto 21 al 22 sette volte dice Pietro no io ti dico settanta volte sette ogni giorno però ripeto è molto importante allontanarci quell'intorno quando già abbiamo adempiuto diciamo questo atto di perdonare questo è importante perché a volte uno noi voglio insistere perché io ti ho perdonato però se la persona non ha attuato questo perdono nei tuoi confronti tu riceverai un'altra offesa e magari arriverà il momento dove la persona stessa verrà e ti dirà ti voglio chiedere io perdono perché ti ho offeso in questo momento in quell'altro momento fratelli la Bibbia dice che tutti offendiamo dice chi può trattenere la propria lingua chi non ha offeso dice la Bibbia con la lingua è un uomo che può dominare tutto però dicendo che purtroppo la nostra lingua infiamma la ruota del creato molto spesso offendiamo e siamo offesi attraverso questa lingua perciò la Bibbia ci dà delle indicazioni noi non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo una vita terrenale cioè in questo mondo e che purtroppo saremo sempre fieriti perciò è tanto importante rimanere sempre alla presenza del Signore continuamente nella nostra vita per quale motivo? perché saremo fieriti in continuazione purtroppo le fierite nella bocca delle persone nelle vite delle persone sono qualcosa che abita e dimora continuamente ultimo punto affidate e confidatevi nei vostri pastori perché un pastore cerca di aiutarti per poter rinunciare a questo diciamo flaggello nel cuore tuo per poterti dare una vita di uscita e che tu possa ritrovare la gioia che stai cercando per la tua casa e la tua famiglia amè? vi salutiamo Padre preghiamo questa mattina nel nome di Cristo Gesù per i nostri fratelli e ti chiediamo amato Spirito Santo di dare a loro Signore pace, serenità, tranquillità che il tuo Spirito Santo li possa guidare Signore affinché loro possano trovare la felicità come tu la stai dando alla nostra casa io ti ringrazio Padre Eterno grazie grazie per come tu ci proteggi grazie per come tu ci guardi e grazie per come il cielo si apre sulla nostra casa, sulle nostre famiglie nel nome di Cristo Gesù Amen Grazie a tutti